Mi ha tolto anche delle cose che dovevo dire io, ma facciamo finta che non è vero. Niente, tutto quello che ha detto Pino chiaramente è quello che sarà la serata, volevo soltanto dire che io sto cercando di fare tre gruppi chiaramente equilibrati, possibilmente quelli più bravi e quelli che ce la fanno del più, giocheranno con noi, scherzi a parte, faremo tre gruppi e quelli del 2000 per dire non credo che siano tutti e undici quelli che hanno giocato, però sono quasi tutti e quindi ci metteremo dei giocatori che non hanno partecipato a quella vittoria come metteremo qualcuno che non ha partecipato alla nostra perché non sono tutti quanti gli stessi giocatori, pure quelli del meno nove ce ne saranno tanti ma qualcuno non c'è, quindi cercheremo di onorare anche il 12 maggio è quel poco che riuscirà a fare, per esempio Pino, sei, sette minuti e cercherà di fare il massimo, io gli starò vicino, lo supporterò un po', però poi dopo devo pensare per me quindi devo cercare.